Here we go for our videotauts of the day And by the way I don't have a film At the Cannes Film Festival This year Everyone Have a great day Si Praticamente Mr. Lynch Ha confermato Io me ne ero accorto Pensavo fosse implicita la cosa Comunque ha confermato in una frase diretta Che lui Praticamente non aveva un film Poi a Cannes Un nuovo film Questo nuovo Prossimo Festival di Cannes Comunque Bene così Allora questo Non l'avevo capito io Cioè Pensavo l'avesse detto Ma non implicitamente Attraverso nessuna frase Invece ha detto proprio la frase Comunque Invito a vedere sempre i video precedenti Su quello che ho detto Su apposito Questo Questo nuovo film Eccetera La non partecipazione Accanto a queste cose Fate riferimento ai video In questi giorni Perché ho parlato già ampiamente Già ne ho parlato in isse ampiamente Poi oggi ricomincia il campion Cioè Ieri è ricominciata la nuova giornata Il campionato di Serie A L'Inter e il Milan hanno vinto Il mio Napoli ha bisogno di vincere Se vuole cercare di vincere questo campionato E restare agganciato a loro Ma Poi ne parlo meglio Dopodomani Nel mio Napoli Perché Cioè Che era dopodomani Quindi Si può vedere Forse questa inquadratura Cioè Spostandomi leggermente Un po' più avanti È più interessante Forse Sono leggermente più avanti Rispetto alla posizione In cui mi metto Per cui Questa è la prossima volta La faccio sempre Un po' più avanti La faccio sempre Un po' più avanti Le porte Vedremo Mi piace un po' di più Non so perché Non c'è il sole Forse Poi se mi venisse Qualche altra cosa in mente Come al solito Lo aggiungo in descrizione Sì E' Grazie a te again A domani